Il canto, la musica e la recitazione come arte e divertimento ma anche come percorso riabilitativo è PAT, Performing Art and Therapy, il primo centro della voce campano. Un luogo dove si confronteranno arte e scienza con percorsi di canto, di recitazione e di dizione aperti a tutti coloro che vogliono migliorare le proprie doti artistiche e professionali o che hanno problemi di logopedia con particolare attenzione ai bambini e alle mamme, come spiega la dottoressa della voce Marina Tripodi, logopedista, vocologa e neuropsicomotricista. PAT è anche un centro dove i bambini con disturbi dell'apprendimento possono imparare giocando e quindi ecco l'importanza della musica, cioè attraverso la musica, attraverso la cantoterapia i bambini riescono poi a risolvere le proprie frustrazioni anche a scuola. Cerchiamo di essere un luogo dove anche le signore vengono a prendere un tè, un tè con tè, faranno dei laboratori di dizione e quindi diamo anche spazio alle mamme nel tempo in cui i bambini sono occupati con noi in riabilitazione. Tra gli insegnanti del centro famosi maestri come Pino Perris di Amici e la cantante jazz Stefania Patanè perché la particolarità di PAT risiede proprio nel far interagire i maestri di canto e recitazione con chi cura i disturbi della voce perché solo grazie a questa interazione tra arte e scienza si può ottenere il miglior risultato per questo grande strumento musicale che ogni persona ha naturalmente in dotazione. Ascoltiamo la vocal coach Raffaella Misiti. È importantissimo che le due figure, cioè quelle del maestro di canto e del logopedista e del foniatra, che tutte queste figure collaborino, invece a volte il logopedista soprattutto se non il foniatra vengono pensati come figure che devono risolvere dei problemi. In realtà sono molto utili per noi insegnanti di canto per collaborare insieme e poter aiutare i ragazzi in un percorso che dura una vita intera perché la voce è uno strumento meraviglioso che cresce con noi, nasce con noi e muta tutta la vita, quindi sono molto molto contenta di questa collaborazione. A dirigere PAT insieme a Marina Tripodi, Veronica Perris che così illustra le peculiarità di questo centro della voce. Ascoltiamola. Per la prima volta PAT unisce quella che è il canto con la passione per la musica e l'ambito logopedico. Siamo partner unicamente in Campania dell'Estil Voice Training, il Voice Craft e poi si occupa anche di recitazione e per quanto riguarda l'ambito invece lirico, del canto lirico, siamo partner e siamo gemellati con Iva Barthelemy.